Quello che ha originato questo disastro, perché è un disastro, l'abbiamo visto tutti, è stato dare una falsa speranza. Vorrei ricordare che la Lega, che di solito viene sempre additata di essere quasi come fosse responsabile di quello che sta succedendo, non governa in Italia, non governa in Europa, non governa in Grecia, dove c'è Siriza, non governa in Turchia. Ora, i responsabili di questo disastro sono quelli che stanno governando ora, dall'Italia all'Europa, alla Grecia, alla Turchia. Perché? Perché hanno originato delle false speranze. Se non si diceva a queste persone, venite, le porte sono aperte, magari il tipo di immigrazione diventava differente. Vorrei ricordare che quelli che arrivano in Italia, degli sbarchi, sempre dati del Ministero, perché è facile sparare numeri a caso, poi si prendono i numeri del Ministero e sono differenti. No, i dati del Ministero, quindi Alfano, per carità, i dati del Ministero ci dicono che... Dice Borghi sono 6%, hanno addirittura. No, no, attenzione a una cosa, diciamone anche meglio, fra gli sbarchi in Italia, sto guardando in questo momento i dati del Ministero, i siriani sono 7%, il 7%, in Italia, i siriani sono 7% e delle domande d'asilo vengono accettate subito il 6%, quindi la stragrandissima maggioranza di quelli che arrivano è gente che legittimamente crede di star meglio, ma è stata ingannata, gli hanno detto vieni qui che è un paradiso, ma qui c'è disoccupazione, l'immigrazione si può avere se c'è lavoro.